Una posizione condivisa ed eventuali strategie per cercare di affrontare la vicenda e l'ampliamento di Timpazzo, ancora sul tavolo della regione che lo ha ricompreso tra i progetti finanziati con il programma FSC. L'amministrazione comunale e la maggioranza cercheranno di fare il punto la prossima settimana. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto un confronto ampio, anzitutto con i gruppi che lo sostengono. Idem e Grillin nel Movimento 5 Stelle si sono già espressi contro l'ampliamento. Il piano regionale dei rifiuti con il primo stralcio è passato da Palazzo di Città. È già definito e non prevede variazioni. Il sindaco ha inoltrato una nota piuttosto dettagliata all'assessorato regionale dell'energia, sottolineando che i numeri dell'ampliamento con due nuove vasche sono eccessivi in un territorio che risente di troppi impatti ambientali. Vuole inoltre prevenire qualsiasi ipotesi di termorizzatori che il governo regionale comunque pare intenzionato a realizzare, con tempi tutt'altro che certi, nella zona palermitana e in quella che fa riferimento a Catania. La prossima settimana quindi amministrazione e maggioranza faranno una valutazione unitaria. Ieri intanto la Commissione Consigliare Ambiente, presieduta al consigliere civico Floriana Cascio, è tornata sulla vicenda a Timpazzo. Per il Presidente Cascio è giusto approfondire ancora di più. La Commissione è pronta a dare un contributo e lo ha comunque già fatto. Anche il Presidente Cascio, si è mossa personalmente, ribadisce che questo territorio non può solo accumulare pressioni ambientali. Per il consigliere comunale, di una buona idea infatti, proprio la città ha già dato tanto su questo fronte. Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, con il sostegno di quello locale, i DEM e gli stessi civici, sembrano seguire la medesima direttrice. In giunta l'unica vera variante è quella degli autonomisti dell'MPA, che hanno come riferimento a Palermo l'assessore all'energia di Mauro e il governo Schifani, essendo nella maggioranza. I cuffariani dell'ADC hanno rimarcato quella che ritengono un'incoerenza strategica e politica nel rapporto tra lombardiani e progressisti. Quello del rifiuti è un campo di prova assai delicato. Chiaramente il governo regionale è intenzionato a portare avanti il piano e Timpazzo rimane un punto fermo nella filiera sull'isola.